Partiti, parte in ritardo Laturi, più veloce Ansonica, al suo esterno Dalia River Red Hawk, quindi Lachigiana, Alcavictor segue a 5-6 lunghezze Laturi. Si affronta la prima piegata con Ansonica a scandire a ritmo in avanti nei confronti di Dalia River e poi Alcavictor che filtra per linee interne avendo all'esterno Red Hawk, quindi due di scuderia Lachigiana e Laturi che ora segue un paio di lunghezze. Cavalli che affrontano la dirittura opposta con Ansonica sempre in avanti nei confronti di Dalia River, poi Red Hawk, Alcavictor, quindi Laturi che recupera per linee interne con all'estrema attesa Lachigiana. Gruppo ora ben riunito sul finire dell'addirittura opposta con Ansonica sempre a graduare in avanti nei confronti di Dalia River, quindi Red Hawk per linee interne Laturi, Alcavictor, poi Lachigiana. Si affronta la piegata finale con Ansonica sempre in vantaggio a mezza lunghezza Dalia River, poi Laturi, Lachigiana per linee esterne avanza Red Hawk la favorita, quindi Alcavictor in coda al gruppo. Si entra in retta di arrivo con Ansonica in vantaggio sotto la minaccia di Dalia River, quindi Red Hawk che si prepara all'affondo per linee interne, avanza Lachigiana. Cavalli ai 300 metri conclusivi con Red Hawk a largo per linee interne Lachigiana, poi Ansonica e Dalia River. Nel tratto finale Red Hawk prende il tempo a tutti, Red Hawk la favorita, la figlia di Red Rock, si vince nei confronti dell'Achigiana, poi Ansonica e Dalia River. Successo quindi per Red Hawk è Giuseppe Gentilesca, i colori sono quelli del signor Laruna, training del signore Ipelluso, quota sotto la pari, in chiusura di gioco 1,84. Vince quindi Red Hawk, numero 6, nei confronti dell'Achigiana, numero 4, poi al terzo posto Ansonica, Ansonica numero 2. Scorriamo le immagini, ecco, bellissima affermazione per Red Hawk, poi a seguire l'Achigiana e Ansonica nell'ordine.